Castello Arabo Normanno ha aperto anche i prefestivi ed i festivi, iniziativa che sta mettendo a punto l'amministrazione comunale di Castellamare del Golfo, d'intesa con gli uffici del secondo settore del municipio a cui è stato dato l'input di provvedere a mettere in pratica gli atti gestionali necessari per permettere che il sito culturale resti sostanzialmente sempre aperto. Un piano che rientra nell'ambito di un preciso progetto obiettivo pensato dal governo cittadino che si porta dietro il pesante fardello di una città che di fatto pur avendo vocazioni turistiche non garantisce servizi conseguenziali. Ad esempio una delle grosse pecche è proprio il Castello che sabato e domenica chiude i battenti lasciando esterrefatti tanti turisti che affollano la cittadina marinara e che si ritrovano davanti un portone sbarrato. Il comune ha trovato i fondi facendo leva sul contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati pubblici in cui si prevede che vi è la possibilità per la giunta municipale di riservare una quota del 30 per cento del fondo destinato alla produttività secondo specifiche esigenze di servizio per l'approvazione di mirati progetti obiettivo. In tal senso sono stati racimolati all'incirca 43 mila euro, soldi che potranno quindi essere utilizzati per pagare i dipendenti che svolgeranno servizio in orario extra rispetto al loro contratto. Al responsabile del quarto settore l'amministrazione Castellammarese ha sollecitato l'individuazione di cinque dipendenti a tempo determinato che possano per l'appunto coprire queste ore in più da espletare per tenere aperto il bene culturale. La giunta guidata dal sindaco Nicola Coppola ha deliberato lo stanziamento della somma e l'avvio del progetto obiettivo. Questa iniziativa prende spunto dal fatto che lo scorso marzo all'interno del castello arabo normanno è stato istituito il polo museale la memoria del mediterraneo con le caratteristiche di museo del territorio quindi un vero e proprio punto di riferimento per i turisti e per questo nei giorni festivi e prefestivi il sito deve rimanere aperto. Tra le priorità dell'amministrazione comunale affermano della libera la giunta vi è quella di una migliore fruizione di tutti i siti culturali tenuto conto della forte vocazione turistica che il territorio comunale sta assumendo soprattutto nel corso degli ultimi anni. Ai fini di una migliore fruizione dei siti culturali dietro alle soluzioni quella di una razionalizzazione degli orari di apertura al pubblico degli stessi anche mediante una modifica e contestuale amplimento delle fasce di apertura che comprendono anche giorni prefestivi e festivi.